...che rischia di assumere solo connotazioni politiche e che muore sul nascere. Se invece è una chiamata di popolo dove tutti gli amministratori da destra e sinistra pongono la questione, peraltro in un territorio che dà e che non riceve, perché il Veneto è una delle pochissime ragioni, una delle tre ragioni che dà e non riceve, cioè produce di più di quello che riceve, dico che è un segnale, pensare che ci siano imprenditori che falliscono, peggio ancora si suicidano, per colpa dei crediti che hanno nei confronti degli enti pubblici, dico che è grave. Poi però vorrei sottolineare che non dobbiamo dare alibi al privato che non paga il privato, perché sta diventando un alibi questa crisi per non pagare i conti e questo è immorale ed è vergognoso. Presidente, un'ultima domanda sul...